Intervenne il Pope. Vibrazioni senza tempo. Franco Lanari. Diversi anni fa, quando ero a Milano, ho assistito a una seduta medianica, dove la medium aveva riunito a casa sua alcune persone che avevano perso i figli. Fu una delle prime esperienze del genere. Intervennero presunte entità disincarnate, le quali confermavano con particolari incontrovertibili la loro identità di quando erano in vita. Dopo la prima fase di quell'incontro, la medium ebbe nuovamente la trans e fu questa volta che intervenne il Pope, raccomandando ai genitori di non far evocare spesso i loro cari, i quali non sarebbero liberi di procedere speditamente verso la luce di Dio. Commento L'entità Pope, alita da molto del nostro tempo, presso alcune medianità genuine, con il suo eloquio del tutto personale, sembra che ultimamente si manifesti presso lo storico cerchio e seno. Grazie. 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 Grazie.